ciao ciao a tutti bentornati sul mio sbrillucicoso canale in quadratura dall'alto per mostrarvi tutto quello che c'è qui davanti appena arrivato ebbene sì è un ordine gigante che ho effettuato dal sito semplice vg in occasione del black friday che si è stata appunto qualche settimana fa che si è conclusa a fine mese ho qua davanti qua tutto finalmente con me quindi vi volevo far vedere proprio come giunge l'ordine quindi tutto bene impacchettato suddiviso con la pluriball quindi questo non credo mai di avervelo fatto vedere ne approfitto che sto spacchettando per mostrarvi come mi è arrivato e via via vi mostro il contenuto di tutti quanti questi meravigliosi pacchettini qui davanti quindi ora sposto tutto quanto e vi mostro i miei acquisti sperando di essere come sempre utile per i vostri acquisti futuri ci vediamo fra pochissimo eccomi di ritorno vi mostro subito ciò che sicuramente avete intravisto nella panoramica generale iniziale ovvero queste scatoline porta bijoux io le acquisto spesso da semplici bijoux avrete sicuramente se mi seguite sui social avete sicuramente visto i miei pacchetti impreziositi da queste bellissime scatoline glitterate guardate che meraviglia in questo caso c'è la nera che poi è un grigio antracite più che nero abbiamo la marrone ecco vi faccio vedere com'è all'interno ha la spugnetta appunto per poter inserire i nostri bijoux la possibilità appunto di mettere o la collana o l'anello oppure gli orecchini è veramente fatta molto bene mi sono sempre trovata benissimo infatti ho approfittato per prendere qualche altro pezzo quindi ho preso le due glitterate ho preso quest'altra che è più semplice però molto molto elegante una volta che sono impreziositi con i nostri fiocchi diventano veramente tutte molto eleganti questa quadrata questo bellissimo blu e poi un altro che utilizzo tantissimo è questo formato che utilizzo sia per i bracciali ecco qua guardate che meraviglia ma anche per i char per borsa se è chiaramente un regalo propongo la possibilità di averlo in questa scatolina abbiamo anche in questo caso questo bel marrone glitterato e questo bel grigio antracite bene adesso le sposto poi iniziamo a aprire i pacchettini di pluriball bene cominciamo a spacchettare il pluriball inizio chiaramente io spacchetto con voi mi ricordo quello che ho preso ma ovviamente non posso sapere cosa c'è in ogni pacchettino ecco qua guardate la cura con cui ogni pacchetto viene ben sigillato ecco qua abbiamo le catene spostiamo ho ripreso ho fatto scorta di queste catene che io utilizzo tantissimo sono catene in alluminio questa è color rosa ho preso una bella quantità perché la uso veramente tantissimo è leggerissima non diventa brutta quindi la consiglio assolutamente poi ho preso anche sempre di alluminio l'argentata che l'avevo terminata e la dorata bene primo pacchettino l'abbiamo aperto poi altro pacchettino perdonate la confusione ma è voluto il fatto di voler spacchettare il mio ordine insieme a voi proprio per mostrarvi proprio esattamente come mi è arrivato fra le mani e scoprire insieme a voi tutto quello che contiene abbiamo il fireline ho preso una bobina di fireland è in selle b che è il 15 lo 0 15 poi via via accumulo il pluriball che mettiamo qua anche questo ecco qua guardate pluriball e sacchettino fantastico veramente una cura eccezionale ho preso questo filato in microfibra che già vi ho mostrato in tanti colori questo qua credo che era una delle poche colorazioni che non avevo preso guardate che bello questo verde sfumato a me piace tantissimo questo filato perché è molto lucido è veramente bellissimo da lavorare sia come come resa diciamo che anche mentre si lavora bene eccolo qua andiamo avanti con un altro pacchettino ecco qua altro pacchettino qua ho vedo questi ho preso bene ho preso questi corrini in alcantara qualche metro questo bel grigio io li uso tantissimo per appunto fare dei collarini per i ciondoli e anche questo color marrone ho poi preso dei rivoli preziosa qua è una coppia adesso ve lo faccio rivedere perché sicuramente ricorderete che ve l'ho fatto vedere anche in altre occasioni ma mi piace sempre spenderci un paio di parole perché questi rivoli sono veramente bellissimi questa colorazione poi è spettacolare la crystal AB sono appunto rivoli da 14 mm preziosa quindi una coppia di questi vengono venduti singoli ma io ovviamente tendo sempre a prendere la copia poi se li uso per i ciondoli vorrà dire che ci faccio due ciondoli e poi anche qua molto attuale in questo periodo questo bel Siam altro pacchettino ecco qua wow quanta bella rovina ho proprio approfittato del Black Friday per fare scorta degli articoli un po' che mi mancavano ma anche sicuramente per fare scorta degli articoli che utilizzo di più allora ho preso questi mezzi cristalli la colorazione è la Sueded Gold Foyage Green sono confezioni da 50 pezzi la colorazione è questa la colorazione è stupenda ecco qua adesso spostiamo magari qualcosina ma tanto le cose che sono qua davanti le avete già viste quindi andiamo a sovrapporre i codici li vedete per lo più su tutte quante le bustine se avete bisogno di qualche informazione non esitate a scrivermi qui sotto nell'info box allora abbiamo le perle di vetro cieche la colorazione è tupè saten 60 pezzi sono perle da 4 mm poi adesso chiaramente io sto prendendo su a caso quindi wow va assolutamente fuori dalla bustina perché no beh fantastico era già finito il Black Friday ma appunto René mi doveva ancora spedire aveva appena inserito questi cabochon da 27 mm cabochon in cristallo mocha e guardate cosa non è questo cabochon io veramente sono senza parole veramente bellissimo cioè fatto veramente benissimo questo è il codice sono nuovi inserimenti quindi li trovate in diverse colorazioni adesso credo che ho preso questa e un'altra proprio l'ho inserito in estremi di chiusura dell'ordine proprio perché questa colorazione l'adoro e vederla in un formato così grande rende ancora di più la sua brillantezza la sua la sua bellezza bene quindi questo lo lasciamo qui guardiamo se è in questo pacchettino o anche l'altro se c'è se mi ricordo bene altrimenti lo troveremo in un altro pacchettino penso proprio di sì allora poi ho preso chiaramente prendo su a caso ho preso degli chaton questi sono gli chaton preziosa da 8 mm di SS39 la colorazione che adoro la Blue Zircon sono confezioni da 4 pezzi allora a proposito del anzi di quelli ne ho preso due vedo un'altra confezione qua ecco qua sempre del Blue Zircon si vede poco che mi piace e dicevo a proposito della mia colorazione mocia preferita la Burgundy che vedete in bella mostra qui davanti nel cristallo da 27 mm ho preso dei quadrati allora vedo due coppie eccole qua la colorazione è la stessa che vedete lì in formato quadrato da 12 mm vengono vendute a coppia quindi a due pezzi sempre in cristallo mocia ho preso questi triangoli la colorazione cristal AB e gli esagoni sapete che io adoro sperimentare e usare formati particolari insomma poi presto ne saprete di più allora poi in questo pacchettino non ci sono altri mocia ma credo che ci sarà qualcos'altro in giro negli altri pacchetti abbiamo dei Bicono preziosa ecco qua la colorazione Topaz AB due per 50 pezzi questi da 3 mm che sono i fucsi AB sempre 50 pezzi sto utilizzando tantissimo anche quella misura quindi è sempre bene avere un po' di scorta poi abbiamo queste perle da 3 mm perle in vetro cieche da 3 mm la colorazione è getta AB 60 pezzi all'interno belle belle anche queste le ho già prese e ho fatto la mia scorta poi scorta di cipollotti qua vedo qualche bustino di cipollotti ve li faccio vedere sicuramente mi avete già visto mostrarveli però è bello insomma per chi capita su questo video rinfrescare la memoria delle belle colorazioni che ci sono sul sito semplici di cipollotti guardate questa è una delle mie preferite il colore argento placato turchese un filo abbiamo poi sempre 3x4 come quello abbiamo queste questi che sono il white frosted mi piace perché ha proprio l'effetto ghiacciato quindi perfetto per le creazioni anche dell'inverno ok mettiamo qua il bigliettino così possiamo recuperare un po' di spazio abbiamo poi queste che sono la colorazione red last un'altra colorazione che amo alla follia che ho preso tante volte è la blu placato turchese questo ben rosa rosa b guardate come sbrillucica un filo di questo che ho già preso ma mi piace tantissimo 6x4 il petrolio a b come potete vedere il prezzo insomma è sempre molto molto competitivo dei cipollotti 90 centesimi a filo altro pacchettino allora perdonate sempre la confusione ma il bello di questo tipo di video che spacchetto proprio insieme a voi cioè chi li chiama unboxing io insomma semplicemente i miei consigli per gli acquisti perché quello vogliono essere allora abbiamo ancora dei bicono eccoli qua questi sono i si amabi che aspettavo proprio per finire un ciondolo che ho sul tavolo di lavoro poi ecco che è arrivato l'altro l'altro cabochon da 27 sempre una colorazione mocha adesso anche questo direttamente fuori dalla bustina la colorazione la sapphire B che bello anche lui guardate che spettacolo di colore guardate il retro e sono fatti veramente bene 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 sicuramente appena avrò un attimo mi applicherò per lavorare uno di questi due cabochon perché mi piacciono veramente tantissimo e guardate sul sito appunto trovate la categoria dei cabochon oppure tramite la ricerca tramite la ricerca cercate cabochon e vedete tutte le altre colorazioni disponibili allora intanto anche questo lo mettiamo casomai questo è il codice ecco se vi interessasse c'è già anche la possibilità di fare la ricerca tramite i codici ovviamente se vi interessa questo colore ritroviamo anche ovviamente infatti mi pareva di averne prese degli altri no quelli di prima erano quadrati effettivamente questi invece sono degli altri triangoli ma sempre la colorazione che amo ovvero la burgundy AB sono triangoli da 12 mm che amo particolarmente poi ancora un'altra coppia sempre burgundy ormai un acquisto che c'è sempre qualche ogni acquisto ha i rivoli perché li uso tantissimo quindi la stessa colorazione ovviamente sono stati i primi che abbiamo scoperto ovvero i rivoli da 14 mm la coppia ovviamente ecco qua poi sto prendendo su così come viene abbiamo questi mezzi cristalli la colorazione su gold foyage green forse avevo preso appunto due pacchetti abbiamo trovato il secondo qua ho fatto scorta di aghi anche in questo caso ovviamente visto l'occasione del break friday ho profittato di fare scorta anche di queste cosine qua quindi gli aghi della pony allora poi abbiamo delle nappine ecco queste nappine in seta che ho scoperto che ho scoperto grazie a uno dei primi kit che fece semplici bijou il kit degli orecchini freia acquistai proprio il kit di melissa e queste nappine veramente mi piacciono tanto adesso magari non so se le ho mai prese negli acquisti sfusi da potervi far vedere appunto la lucentezza di queste nappine ecco guardate proprio belle 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 cioè è venduta non so se è venduta a coppia due pezzi si è venduta quindi a coppia ok questo che vedete è il codice poi abbiamo ecco qua mi pareva che dovevano essere sei abbiamo un'altra coppia di triangoli la colorazione è sempre quella lì ovviamente che va ad aggiungersi alle altre due coppie e ho preso ecco un'altra di quelle cose che ho approfittato di fare scorta sono questi i castoni per gli chaton sono in acciaio ogni confezione ha dieci pezzi io ho fatto appunto un po' di scorto ho preso cinque confezioni se ho visto bene sono queste ecco bene mettiamo qua e poi ancora mezzi cristalli la colorazione albasser passer light brown 50 pezzi guardate che bello questo colore poi guardiamo perle perle da 4 queste sono perle preziosa da 4 mm la colorazione perle shant blue confezione da 20 pezzi stessa colorazione ma da 6 mm la perla shant blue appunto sempre preziosa perle da 6 per questo colore bellissimo che è invece una perla in vetro cieco alla colorazione plum 30 pezzi da 3 mm perle in vetro cieca la colorazione saturated metallic merlot procediamo con queste che sono sempre in vetro cieche e la colorazione fiesta baltic blu 15 pezzi sono da 10 mm da 3 abbiamo il vintage copper 60 pezzi chiaramente solitamente nei video solitamente vi divido per categorie cerco di prendere su sempre insieme ma è bello anche questo questo modo di farvi vedere tutto quanto anche perché sono tantissime cosine quindi sicuramente anche dividendo sarei sarebbe potuto capitare appunto di non andare in ordine allora abbiamo perline mobiduo a colorazione jet 30 pezzi ecco la colorazione jet semplice delle mobiduo non l'avevo mai presa però siccome mi stanno richiedendo tantissimo il color nero ho approfittato di prendere anche le mobiduo ecco qua auto pluriboy che spostiamo abbiamo le ultime bustine di questo pacchettino bicono preziosa mi sfugge la colorazione ma guardate quanto è bella mi sfugge proprio la colorazione che vabbè comunque se vi interessa poi la vado a cercare ve la dico guardate quanto quanto brilla ginkgo la colorazione jet azzurro 10 grammi le bridge la colorazione jet suede gold confezioni da 5 grammi e infine in questo pacchettino abbiamo le delica miuki la colorazione black 5 grammi anche queste credo nonostante che le delica le uso da tantissimi anni la colorazione nera non lo so se l'ho mai avuta ma sempre per il fatto che vi stavo dicendo che il nero è molto richiesto ho preso pure le delica ecco stai su adesso si è creata la bella montagnetta procediamo col prossimo pacchettino prossimo pacchettino appunto prossimo flurible ecco qua bene abbiamo ecco qua wow abbiamo ancora la colorazione preziosa le perle shant blu che abbiamo visto da 4 da 6 l'ho prese anche da 8 confezioni da 10 pezzi poi abbiamo delle gocce qua goccia di cristallo moce la colorazione sapphire a b guardate che meraviglia sono le 13 per 18 sempre gocce 13 per 18 la colorazione cristal a b guardate che meraviglia anche questo non vi sto chiaramente a tirare fuori dalla bustina perché se no il video durerebbe veramente tantissimo come avete visto in apertura sono tanti pacchettini però ovviamente già dalla bustina si vede la meraviglia dei colori e la brillantezza allora gli ovali ecco anche gli ovali guardate che spettacolo con la colorazione che non mi può mancare all'appello la burgundia B la coppia appunto eccoli qua quei cabochon da 27 qua davanti veramente mi stanno abbagliando e mi stanno in un certo senso chiamando usami 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 bello bello guardate c'è veramente a parte che già messo qua vicino a queste ginkgo senza farlo opposta sa divinamente chissà allora procediamo invece con con le altre cosine abbiamo il bicono preziosa da 3 mm la colorazione blu zircon a b 50 pezzi e abbiamo una seconda confezione dello stesso colore e poi abbiamo blu zircon a b 2x per i 4 mm stavo guardando quella di prima no comunque il colore vi dicevo se vi interessa ve lo cerco allora abbiamo dei rivoli sempre in cristallo mocha la colorazione yacinth a b altri ovali questa è la colorazione grey a b questi magari visto che non so se vi ho mai fatti vedere degli acquisti gli ovali non credo perché non era tanto che sono sul sito quindi ve li faccio vedere fuori dalla bustina almeno una coppia infatti proprio divinamente anche loro bene ecco qua procediamo con altri chaton chaton l'iceam quattro pezzi abbiamo abbiamo poi dei perni ecco questi ve li faccio vedere fuori dalla bustina perché anche loro li ho già presi ma mi sa che non vi avevo fatto in quell'occasione il video acquisti quindi approfitto oggi di farvi vedere perché sono veramente bellissimi cioè io li adoro questi questi perni adesso ci sono anche le due farfalline una è uscita l'altra è rimasta qua vabbè comunque vi faccio vedere intanto i perni guardate che spettacolo perni in trecci color oro la coppia questo è il codice guardate che spettacolo c'è appunto anche la farfallina ma c'è anche l'altro ovviamente e quindi vabbè mettiamoli qua ecco anche la sua farfallina così non la perdo l'altra è dentro poi ecco un'altra coppia sempre di quelli ma secondo me ne troveremo altre perché appunto mi è piaciuto tantissimo e ho approfittato di fare scorta stesso modellino l'ho preso anche in colore argento nonostante che l'argento magari lo uso un po' meno però insomma viene richiesto anche questo guardate che belli che sono proprio mi piacciono tanto ecco qua ovviamente anche qua le relative farfalline questo è il codice poi ho preso dei le farfalline eccole qua in acciaio color oro ho preso due confezioni ecco qua e poi ho preso delle base per orecchini con clip eccole qua ho preso due modelli adesso non mi ricordo forse sono gli stessi il codice è lo stesso ho preso appunto due coppie credo ci sia un altro modello magari lo troveremo in un altro pacchettino altro pacchettino appunto e vediamo insieme cosa contiene è bello ricco questo come anche quello quello dopo ecco qua wow quante meraviglie è una bella scotta di perlina appunto ho profittato dell'occasione degli sconti del Black Friday allora iniziamo da tanto cerco di andare per ordine almeno nel pacchettino ma insomma tutto bello tutto bello tutto bello tutto bello abbiamo le bridge questa colorazione la carry 5 grammi ho preso due confezioni e quando le trovo minimo due confezioni le prendo perché come sapete le bridge le uso per lo più per fare l'innuendo per fare l'innuendo servono 18 bridge e insomma generalmente nei 5 grammi ci sono quei 16 pezzi ecco quindi approfitto sempre di prendere almeno due bustine in questo caso ne ho presa addirittura tre ovviamente perché così in realtà ce ne vengono addirittura due oppure insomma si abbino anche col braciale canarian come mi avete visto ultimamente fare quindi la possibilità di fare entrambi di fare la parure ecco questa è una delle colorazioni che amo di più delle bridge quindi la colorazione getta B in realtà è una delle colorazioni che amo di più in generale perché questo anche se un nero ha questi riflessi appunto che lo rendono un colore spettacolare quindi due bustine meno che non scusate mal di mare ecco qua se ormai arriva tutta la robina arriva a toccare il cellulare allora continuiamo con wow cosa vi faccio vedere vi ho detto che uso tanto il nero quindi ho preso anche le Nibbit con questo voglio farci un braciale le Seychelles ecco qua Nibbit sono confezioni da 10 grammi poi ho preso le Paisley confezioni da 10 grammi anche in questo caso il nero mai preso tanto nero come in questo periodo però ovviamente voglio essere pronta ad ogni esigenza poi procediamo con le Bridge sempre con il nero questo qua invece anche se è nero l'ho preso tantissime volte ho fatto diverse versioni di innuendo in questo Jet Matte e poi ecco l'altra bustina come vi dicevo quando ci sono vado sempre via minimo a coppia ecco qua è emersa anche una delle bustine che abbiamo trovato in un pacchetto precedente la colorazione Jet Suede Gold poi queste Kite ecco la confezione da 5 grammi mi ispirava tantissimo questo colore guardate è un marrone Splash dorato Gold Splash Brown Opac belle belle poi abbiamo le Rocaille della Miyuki la colorazione Duracord Galvanized Dark Mauve una colorazione che amo sono 10 grammi guardate che meraviglia ecco che sbucano altri triangoli quindi insomma avete visto tanti triangoli in questi pacchetti chissà come mai i triangoli quindi colorazione Crystal AB la coppia altri guardati sempre la colorazione Burgondia B infatti mi pareva di averne presa anche in questo caso tre coppie questa è la terza no in realtà c'è un'altra ancora la quarta quindi forse avevo preso quattro coppie non mi ricordavo con i vari tipi tipi di perline mi sono confusa evidentemente infatti qua mi sono arrivati anche questi esagoni che anche forse loro sono appunto tre coppie che ve le ho fatte vedere prima le altre due la colorazione Crystal AB tutto bello questi sono i quadrati appunto tutto meraviglioso Moby Duo Lava Red esatto 30 pezzi poi perle da tre classico le Vintage Copper forse c'era anche un'altra bustina adesso non ricordo se ve l'ho già fatta vedere sempre per il discorso che le cose che uso tanto ho fatto una scorta maggiore ecco qua le 3 mm la Tupesse a tenere alla Buster Passer Light Brown per i mezzi cristalli adesso non ricordo se ve l'ho già mostrato un altro pacchettino vuol dire un'altra perlina nello stesso colore però questa colorazione mi piace un sacco abbiamo poi mezzi cristalli in color metallico e dal green bello questo colore bellissimo Rockalby Yuki la colorazione è Matte Duracode Galvanize Light Peewitter e guardate quanto è bella Super Duo Saturated Metallic Forest poi perle in vetro ceche un'altra confezione di queste qua mi ricordo che ve l'ho mostrata prima da 3 mm sempre lì che mi servono poi vedrete abbiamo ecco qua altri chaton preziosa la colorazione Capri Blue SS39 ancora quattro pezzi del Blue Zircon che avete visto anche prima è uno dei colori chiamo di più e si vede perle in vetro cieche un'altra confezione di toupé saten ovviamente vedete dei doppioni proprio perché ho approfittato del prezzo come vi ho già detto fate un'altra coppia anche di questi rivoli la colorazione Burgundia B che meraviglia poi sono arrivati sempre fra i nuovi arrivi i rettangoli che già vi ho mostrato nel color skit se ricordo bene qualche settimana fa con lo skit di semplici bijou con appunto l'arrivo dei rettangoli e ho chiaramente appreso qualche colorazione guardate che meraviglia vi faccio vedere fuori dalla bustina sempre il colore che amo di più che è il colore Burgundia B sono di misura 18x13 e vi faccio vedere anche gli altri colori ho poi preso queste visto che sono nuove ve le faccio vedere tutte quante le colorazioni fuori dalla bustina sono nuove appunto i rettangoli ne vale sicuramente la pena spendere qualche istante in più guardate che meraviglia il sapphire B questo è il codice ok io metto via via dentro la bustina perché se no è un casino poi riporrò tutto quanto con calma perché qua mettere via tutta questa roba a me ci vuole un po' di tempo ovviamente tu rimani sempre lì in bella vista guardate che spettacolo poi la colorazione greige a b se ricordo bene questa è adesso vediamo la bustina wow sì grege a b che bella montagnetta di sbrilluccichio e per finire per quanto riguarda i rettangoli questo video durerà un po' di più ma sicuramente è una bella carellata all'interno del sito semplici bijoux in quanto ci sono un po' tutti quanti gli articoli tanti articoli insomma quindi vado a mostrarvi tante categorie quindi sicuramente ne vale la pena guardate che meraviglia anche questi che sono la colorazione per i dot a b belli belli anche questi bene ultimo pacchettino sì direi che non ce ne sono più in giro ok ultimo pacchettino wow 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 pieno di meraviglia anche lui alcune cose si ripetono ovviamente perché come dicevo ho fatto scorta un po' di tante cose che uso ecco qua vedo subito diverse bustine di quei perni che vi ho fatto vedere all'intrezzo quindi eccoli qua ecco qua abbiamo tre bustine di queste qua color oro poi avrò occasione di farveli vedere devo fare assolutamente anche un video creazioni perché tanti di voi mi hanno chiesto come mai non fai più video creazioni effettivamente devo controllare bene ma credo che nel 2021 non ho ancora fatto un video creazioni ma è stato proprio la mancanza di tempo che mi ha che mi ha portato a non mostrarvi le creazioni insomma ogni tanto vi faccio vedere qualcosa sui social però su youtube credo che quest'anno non ho fatto video creazioni quindi assolutamente devo rimediare allora e dicevo appunto ve li farò vedere sicuramente anche montati su una creazione perché li ho già montati su alcuni orecchini e sono veramente fantastici quei perni allora procediamo con altri esagoni ecco qua sicuramente insomma avete capito che con questi esagoni ci vado a fare sicuramente una versione del bracciale seychelles altri chaton la colorazione bellissima questa che è la bermuda blu guardate che meraviglia ecco qua vedete questo arretto argentato un'altra confezione di questi orecchini un'altra confezione anche per quanto riguarda la versione argentata di questi bellissimi orecchini in treccio poi ecco qua siamo quasi alla fine abbiamo una coppia di gocce ancora la colorazione grey jabi le gocce 13x18 che ho preso un po' tutti quanti i colori poi ecco che la montagna cede ecco non ci vuole stare quindi comunque teniamo così allora abbiamo ancora degli esagoni adesso mi viene in mente che probabilmente ho preso in tutto quattro coppie perché oltre al bracciale 6 shell ci volevo fare in abbinamento da mettere in campionario una parura abbinata agli orecchini 6 shell ecco qua poi la colorazione crystal AB ho preso anche i rettangoli ecco prima ve li ho fatti vedere tutti fuori dalla bustina le colorazioni dei rettangoli quindi ne approfitto sicuramente anche per mostrarvi al volo questi guardate che spettacolo questo è il codice poi perle in vetro c'è che la colorazione è monstone blu 30 pezzi questa colorazione la amo ecco qua ecco un'altra bella colorazione la violetta B penso di aver preso tutti i colori dei rettangoli così avete modo di vederli tutti e vi faccio vedere anche questo fuori dalla bustina ecco qua guardate che spettacolo ovviamente essendo mocha la colorazione del retro è così riprende appunto il colore principale che in questo caso è il violetta B bene un video diciamo consigli per acquisti veramente molto molto ricco e particolare questo spero vi faccia piacere allora altri chaton la colorazione è l'indicolite belli belli guardate chaton preziosa così come chaton preziosa sono questi la colorazione crystal B anche lo chaton è un articolo che uso tantissimo perché faccio tanti I love ginkgo a lobo per lo più ultimamente gli orecchini I love ginkgo che trovate qui sul mio canale allora ecco infatti mi ricordavo di un altro formato di questo che è la base per orecchini a clip c'è il formato con il il dischetto qua più piccolino e anche qua almente insomma di sperimentare qualcosina che poi vedrete allora poi passiamo un po' di minuteria poi vabbè vedo anche altre perline ma ora ho queste qua che già vi ho mostrato già ho acquistato da semplici bijoux sono i chiodini ad occhiello in acciaio colorazione dorata 50 pezzi 1,20 euro lo trovo veramente un ottimo prezzo ho preso infatti 4 confezioni perché stavo finendo le mie scorte che avevo già preso quest'estate allora poi sempre come minuteria sempre come acciaio le 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 color acciaio acciaio color acciaio sono dieci pezzi questi qua poi ho preso anche ovviamente la colorazione dorata confezioni da quattro pezzi quindi acciaio dorato anche questi li ho ripresi perché mi trovo benissimo poi monachelle queste sono le monachelle che utilizzo per lo più quando voglio mettere qualcosa di semplice semplice ma sempre bellissime ormai queste me le avete fatte vedere credo ogni video acquisti ci sono proprio perché le uso molto spesso e ho approfittato anche in questa occasione ovviamente di metterle dentro al mio ordine sono otto pezzi e veramente sono bellissime questa è la colorazione oro rosa quella che uso tantissimo poi perni ecco questi non mi ricordo li ho presi però non credo di averveli fatti vedere questi perni in acciaio guardate che meraviglia sono in acciaio color oro e questo è il codice guardate che meraviglia ovviamente hanno anche la relativa farfallina sempre in acciaio il foro per la creazione qua sotto e li trovo veramente bellissimi ci sono vari modelli in acciaio sia col cuore che torni andate a vedere la categoria perché è molto molto fornita bene poi sempre come perni siamo quasi alla fine ultime bustine mi piace tantissimo questa inquadratura credo che magari farò uno scatto per invogliarvi a guardare quanto c'è sotto la montagnetta cosa c'è di bello allora un'altra coppia di perni che mi ispirava un sacco sono sempre in acciaio eccoli qua questi credo che c'erano da un po' ma non li avevo mai presi sono veramente bellissimi sono color oro e questo è appunto il prezzo e il codice tutto quanto sempre acciaio dorato quindi ottimo allora per finire abbiamo altri bicono ecco qua la colorazione light color top a B2x questa colorazione io l'adoro la uso tantissimo poi abbiamo questi che sono i fucsia AB 3 mm la saturete il metallic merlot la colorazione delle perle in vetro secca del 3 mm ecco queste credo che ne avevo prese due confezioni forse l'altra l'avete vista qualche pacchettino fa e un altro filo di cipollotti in questa altra colorazione che mi piace un sacco la chalk green plated e per finire un articolo per me insolito ovvero le crescent la colorazione però è qualcosa di spettacolare perché è la metallica e il dry green e quindi insomma ho riscoperto un po' le crescent se seguite il canale avrete visto uno dei progetti a quattro mani alle crescent quindi insomma le ho riscoperte un po' in quell'occasione e diciamo che mi è piaciuto utilizzarle e vedrò di utilizzarle ancora bene questa è la meravigliosa inquadratura con cui vi saluto quest'oggi io ringrazio René e Stefano del sito semplici bijou come sempre per la loro disponibilità e gentilezza ringrazio voi per la visione di questo video spero vivamente che possa esservi utile per i vostri acquisti futuri perché vi ho fatto vedere veramente tante cosine ho cercato di andare velocemente per far durare il video meno possibile ma ovviamente essendo tante le cosine adesso non so quanto sarà in totale però spero di avervi tenuto una buona compagnia grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima ciao